Filippo Busin, arriva in aula il disegno di legge delega fiscale. Qual è il giudizio della Carroccio su questo provvedimento del governo Letta? È un provvedimento che era assolutamente necessario, tanto che l'abbiamo recuperato dalla precedente legislatura, perché abbiamo un sistema fiscale che è iniquo, vessatorio, ingovernabile, a tutto discapito del cittadino, del contribuente, e con strumenti fin troppo potenti, troppo forti a favore dell'autorità finanziaria. Questo lo percepiscono tutti, quelli che hanno avuto a che fare con l'autorità finanziaria, con l'Agenzia delle Entrate o con Equitalia, e per cui la riforma era assolutamente necessaria. Certo si poteva fare di più, noi abbiamo presentato degli emendamenti, alcuni sono stati anche accolti, ma in generale diciamo che il nostro giudizio è positivo e adesso aspettiamo i decreti delegati, per vedere come sarà disciplinata nel concreto la materia. In particolare quali emendamenti la Lega Noda ha presentato? Per esempio uno che riguardava maggiori sanzioni per quei comuni o quei funzionari comunali che avevano dei comportamenti gravemente omissivi nel rilevare i cosiddetti immobili fantasma. Questa è una cosa che va assolutamente risolta e non è da paese civile avere interi quartieri, interi paesi, soprattutto in una zona del nostro meridione, come sappiamo bene, che sono totalmente sconosciute al catastro. Questa è una forma di evasione fiscale intollerabile assolutamente. Poi sulle discipline dei giochi noi ovviamente abbiamo appoggiato e anzi abbiamo rafforzato qualsiasi iniziativa che li disciplinasse, che li limitasse la loro diffusione, perché crea dei gravi problemi sociali, famiglie che si rovinano, persone che si suicidano e quindi tutto quello che è stato fatto in favore di una maggiore disciplina e di una limitazione del proliferare dei giochi d'azzardo noi l'abbiamo appoggiato e l'abbiamo sostenuto.